Prova, prova, Antani, ok. Ciao a tutti, sono Francesco, Swapage, e oggi vi racconto una storiella, nulla di eccezionale secondo me, ma però era un esperimento simpatico, di come io, fondamentalmente è una storiella di un ingaggio durante un penetration test dove ho dovuto prendere il controllo di una macchina e quindi per poterlo fare avevo trovato una sorta di longing fruit e in realtà è diventata una cosa estremamente tediosa e vi racconterò come ho preso un proof of concept di un exploit scritto nel 2011 e sono riuscito a modificarlo e a portarlo affinché funzionasse due mesi fa. Va bene, chi sono? Faccio il penetration tester di giorno, gioco e organizzo i CTF durante la notte sono parte del gruppo di Moana che ha organizzato l'IHC-CTF di quest'anno e mi piace occuparmi di Reverse Engineering. Di che cosa parliamo? Parliamo di una storia di estrema... una storia vera intanto perché si tratta di un penetration test reale parliamo di una storia di estrema sofferenza e frustrazione ma questo microfono parla un po' a caso però soprattutto di un'attività che è stata estremamente interessante e anche una learning experience per me perché comunque non si smette mai di imparare e praticamente vi racconto appunto come ho preso un vector exploit proof of concept del 2011 e l'ho modificato per funzionare contro un target moderno sempre la stessa applicazione ovviamente però che gira su un sistema operativo moderno e quindi con tutte le contromisure del caso. Allora lo scenario è seguente noi avevamo una... avevamo fatto breccia nel perimetro avevamo il controllo di una macchina però questa macchina non era privilegiata abbastanza era fuori dal dominio, era in DMZ e quant'altro e noi dovevamo scalare in qualche modo facciamo scansioni e scansioni e troviamo ovviamente una macchina estremamente interessante perché è una macchina joinata al dominio troviamo e vediamo che su questa macchina gira un software che insomma molto probabilmente tutti quando lo vedono un pochino si fregano le mani. Ok, chi non conosce HP Power Manager dal punto di vista della insicurezza Ok, diciamo che l'HP Power Manager è un software tanto carino quanto pericoloso perché almeno nella versione che era installata è un software che ti dimentichi di avere è un software che non aggiorni mai e quindi capita spesso di trovare versioni obsolete di questo software è installato su qualche macchina dimenticata da Dio all'interno della LAN e abbiamo vinto e sicuramente questa sera torneremo a casa per cena e saremo domain admin perché ci sono delle vulnerabilità note una è addirittura una vulnerabilità del 2009 contate che questo penetration test è di due mesi fa quindi immaginatevi la versione del software quanto era antica sfruttando questa vulnerabilità si ottengono privilegi di system quindi ai massimi privilegi non è neanche bisogno di fare escalation locale e la macchina è joinata al dominio e ovviamente esistono dei proof of concept e degli exploit già armati disponibili per questa vulnerabilità basta andare su exploit.dv e trovate un exploit scritto da Ryujin pieno di offensive security che ha scritto questo exploit che lo chiama super universal mi pare 4.0 Antani però ci sono un pochino di problemi cioè lui l'exploit funziona ma il problema è che questo exploit è un exploit che è stato scritto nel 2011 e quindi i target che lui definisce universali sono Windows XP e Windows 7 ovviamente buona pratica per chiunque faccia penetration test poi questo è un mio vizio prima di lanciare un exploit di memory corruption verso un target effettivo cerco di replicare la macchina nella maniera più fedele possibile e testo l'exploit in un laboratorio locale perché di solito quando l'exploit non è reliable se l'exploit non funziona, fallisce nella migliore delle ipotesi ti crash al servizio nella peggiore delle ipotesi ti blue dump al sistema quindi di solito lo testi prima e ovviamente nel nostro caso se non lo sarei qui a raccontarvelo l'exploit fallisce e il servizio crasha tra l'altro questo qua è uno di quei servizi che non si riavvia, non ha un thread e quindi quando crasha, crasha proprio il servizio quindi è one shot one kill se perdi hai perso quindi avevamo bisogno di avere un exploit che funzionasse e ci siamo messi a lavorare parecchio e abbiamo iniziato a capire quali potevano essere le differenze e le cause del nostro problema la prima causa ovviamente è che il nostro target non era un Windows 7 ma era un Windows Server 2008 R2 quindi quando tu hai a che fare con Windows Server 2008 R2 le DEP policy che DEP sta per Data Execution Prevention è fondamentalmente il no execution relativo alla paginazione della memoria su Windows 7 è in opt-in vuol dire che tutti i programmi non hanno abilitato questa funzione a meno che non venga esplicitamente richiesto dall'utente ed è abilitato solo per le applicazioni core di Windows mentre invece su Windows Server 2008 è always on vuol dire che è in opt-out per cui di default tutte le applicazioni che io installo su Windows Server 2008 girano con la Data Execution Policy impostata on quindi se io cerco di eseguire uno shellcode in un'area di memoria che non è RVX è exception fault e non funziona diciamo che questo era il primo problema e può essere tra virgolette facilmente risolto facilmente perché? perché si fa una ROP Chain le Windows API mettono a disposizione delle fantastiche funzioni tra cui Virtual Protect Virtual Protect è un po' la controparte Windows di M-Pro ed è una funzione che permette di modificare le flag e i permessi di accesso a delle aree di memoria quindi quello che si fa fondamentalmente in genere è abbastanza da manuale è far sì che scrivere una ROP Chain che porti il programma a chiamare Virtual Protect sull'area di memoria dove è stato scritto lo shellcode dopodiché si salta sullo shellcode e a quel punto lo shellcode funziona e si ottiene una shell però c'è un ulteriore problema che ovviamente c'è anche a SLR quindi a noi serve un puntatore a Virtual Protect però noi non sappiamo mai dove è il puntatore a Virtual Protect perché a ogni riavvio del servizio le DLL subiscono un rebase le DLL di sistema e quindi Virtual Protect ha sempre un indirizzo diverso quindi noi non lo possiamo arcodare nella ROP Chain però per nostra fortuna questo programma ha una DLL MSVCP 60 DLL che non ha SLR abilitato e non va in rebase cioè vuol dire che tutti gli indirizzi di quella DLL sono statici e sono sempre quelli all'interno ad ogni riavvio ad ogni esecuzione del programma quanti di voi hanno familiarità con la struttura dei binari PE? un pochino minimo ok non importa quindi ci inventiamo qualcosa in realtà non è che ce lo inventiamo perché è una tecnica nota però facciamo una cosa che si chiama import address table hoppy cioè cerchiamo di sconfiggere la SR partendo dalla DLL di cui abbiamo degli indirizzi noti prendiamo la import address table guardiamo quali funzioni importa da altre DLL di sistema che ci interessano e da lì attraverso dei calcoli di distanza tra indirizzi e puntatori andiamo a risalire pian piano a qual è l'indirizzo di virtual protect in memoria in un sistema tipo questo noi abbiamo msvcp60 DLL che contiene un puntatore alla funzione function nel nostro caso specifico era set un handled exception filter che è una funzione di Windows che è presente all'interno di kernel 32 DLL una volta che noi da qui riusciamo ad avere l'indirizzo di questa funzione all'interno della DLL quando è in esecuzione sappiamo per certo che per quella versione di kernel 32 avremo a distanza fissa un puntatore a virtual protect useremo quindi poi dopo questo calcolo il puntatore a virtual protect sempre nell'import address table ma questa volta di kernel 32 per andare a prendere la funzione virtual protect all'interno di kernel base e quindi facciamo appunto hopping utilizzando la import address table e calcolando ogni volta le distanze per avere il puntatore a virtual protect questa è una cosa molto macchinosa qui abbiamo un piccolo estratto della rob chain non so se si legge perché purtroppo i commenti sono in grigio tutto questo blocco di codice in sostanza tutti questi gadget della rob chain servono solo ed esclusivamente per avere l'indirizzo di virtual protect all'interno di un registro quindi facciamo un po' di push per popolare i vari registri facciamo dei calcoli per riuscire ad ottenere gli indirizzi forse il gadget più interessante è questo perché scrive in EAX il valore puntato da EAX quindi questo ci permette di fare questa risoluzione è qua dal puntatore a function andare a prendere function e sfruttando questo giochetto qui noi andiamo a fondamentalmente sconfiggere la protezione SLR della memoria e allo stesso tempo abbiamo riusciamo a chiamare virtual protect e a saltare sullo shellcode tutto molto bello uno dice ok hai chiamato virtual protect hai sprotetto la memoria l'esegui il tuo shellcode tanti saluti e ti piacerebbe perché purtroppo abbiamo un altro problema una robchain completa che è molto più lunga di questa mi diventa circa 180 byte e il mio buffer è piccolo quindi una volta che io ho una robchain se prima ci stava tutto lo shellcode che mi serviva se nel mio buffer lo shellcode completo non ci sta più perché lo shellcode di Windows gli shellcode di Windows sono grandi devono fare un sacco di cose per funzionare e se non ci sta tutto lo shellcode abbiamo fatto tutto questo mestiere praticamente per niente la soluzione è stata quella di dire ok allora utilizziamo un egg hunter siccome la vulnerabilità è all'interno di un server HTTP quello che succede è che la parte vulnerabile è all'interno di una post request ma altre aree di memoria vengono utilizzate per salvare altre informazioni della richiesta post quindi per esempio lo user agent e tutti questi dettagli vengono comunque allocati nello heap da qualche parte e quindi l'idea è ok noi scriviamo uno shellcode iniziale molto piccolo chiamato egg hunter che cerca all'interno di tutta la memoria del sistema operativo quindi tutto e quindi anche all'interno dell'oedip dell'applicazione un tag che identifica univocamente il mio shellcode e una volta che l'ha trovato ci salta sopra ed inizia ad eseguirlo questa diciamo è stata la parte più interessante perché anche qua ovviamente non ci sono egg hunter pubblici che funzionano out of the box per un senso motivo allora gli egg hunter utilizzano delle system call per cercare di fare degli accessi alla memoria capire se l'area di memoria è leggibile e andare a vedere se effettivamente poi lì c'è quel dato che gli interessa cioè il tag dello shellcode però utilizzando le system call queste cambiano da sistema operativo da versione del sistema operativo a versione del sistema operativo ma la cosa più tricky in questo caso è che noi avevamo un software compilato a 32 bit che girava su un sistema x64 quindi cadiamo all'interno di quello scenario un po' particolare che è quello che si chiama SysWave 64 cioè abbiamo una serie di limitazioni per quanto concerne quelle che sono le system call che noi possiamo andare a creare cioè che noi possiamo andare ad utilizzare quindi tutti gli shellcode che provavamo crashavano malissimo fortunatamente diamo a Cesare quel che è di Cesare ringraziamo Corelan se siete appassionati di exploit writing o comunque se vi interessa l'aspetto della scrittura di exploit memory corruption e quant'altro Corelan.b è un riferimento con dei tutorial veramente fatti bene che spiegano un sacco di cose e qui ho trovato le risorse estremamente interessanti relative alla scrittura di un egg hunter che funzionasse sia su piattaforma cioè che funzionasse su sistemi SysWave 64 in particolare è ancora più carino come egg hunter perché quello che fa è verificare se il sistema operazione se il processo sta girando come SysWave 64 e se si eseguire un determinato payload altrimenti se è su un attivo 64 o su un attivo 32 quindi è una sorta di shellcode universale di egg hunting che cerca indipendentemente dall'architettura e questo è estremamente utile ultimo modramma è che noi abbiamo lo shellcode in memoria abbiamo il nostro egg hunter che lo trova e quando lo trova ci salta sopra però crasha perché perché anche l'altro shellcode che è quello definitivo stava a finire in un'area di memoria che non è rvx e quindi noi abbiamo di nuovo il problema di non poterlo eseguire e quindi dobbiamo chiamare di nuovo virtual protect ci siamo inventati una soluzione un po' particolare quindi abbiamo preso le gunter proposto da Corela ne l'abbiamo modificato ci abbiamo aggiunto delle routine ulteriori e queste routine fondamentalmente ripopolano cioè creano un nuovo stack frame per chiamare di nuovo virtual protect sull'area nuova di memoria dove c'è lo shellcode definitivo a quel punto una volta che l'ha sprotetto ci salta sopra e da lì finalmente abbiamo abbiamo una shell quindi da un exploit semplicissimo di buffer overflow che è veramente un caso da manuale perché in realtà il bug originale è uno stack overflow all'interno di una richiesta post nella form di login per cui se tu mettevi come username andavi a sovrascrivere l'instruction pointer con i bellissimi 41 41 41 41 questo exploit diventa un exploit in tre stage dove per prima cosa chiamiamo virtual protect sulla prima area di memoria dopodiché chiamiamo il primo egg hunter cioè chiamiamole egg hunter che verifica la versione del sistema la piattaforma su cui sta girando e va a cercare lo shellcode in memoria quando lo trova prende l'indirizzo in cui si trova lo shellcode lo sprotegge di nuovo richiamando virtual protect e alla fine ci salta sopra e ottiene una reverse shell o una shell o comunque esegue qualcosa nel mio caso specifico ho preferito optare visto che era system la creazione di un utente administrator locale con una password che io conoscevo perché poi la macchina aveva un rdp aperto io potevo saltare su è stato un lavoro circa di 3 3-4 giorni abbastanza intensivo perché appunto è una cosa un po' particolare è stata un'esperienza distruttiva oltre che distruttiva dal punto di vista mentale perché comunque è un processo abbastanza abbastanza tedioso però alla fine ah ok questo è un esempio qua è quando siamo andati a modificare a mano leg hunter riscrivendo alcune routine in assembler per poi poterlo inserire all'interno del nostro exploit qui vediamo che abbiamo la parte di check che è la più interessante cioè lui controlla se S23 allora vuol dire che il processo sta girando all'interno di Syswork 64 quindi abbiamo un processo a 32 bit che gira su un sistema a 64 bit e in quel caso segue un determinato path di esecuzione altrimenti segue quello nativo a 32 bit la cosa lo sforzo ha pagato perché abbiamo tenuto una shell come system sul server target poi ovviamente con i soliti trucchetti di lateral movement mimicatz power view bloodhound e cosacce del genere abbiamo fatto lateral movement siamo riusciti ad arrivare a degli account di domain admin e a quel punto abbiamo preso controllo del main controller e abbiamo vinto cose da fare sicuramente l'exploit non è perfetto perché la reliability purtroppo dipende moltissimo dalla versione delle DLL che sono installate sul sistema nel nostro caso per un discorso nostro abbiamo utilizzato kernel 32 però da un punto di vista della reliability non è il massimo perché i kernel 32 ce ne sono troppe versioni che possono dipendere non solo dai service pack e dalla lingua del sistema operativo ma anche da patch di minore entità quindi magari dopo un patch Thursday cambia la DLL e gli offset non funzionano più quindi proverò a lavorare su questo aspetto magari cercando altri path di adhopping per vedere se trovo delle DLL che cambiano meno spesso con gli stessi riferimenti gli stessi puntatori da poter utilizzare e vabbè magari quando poi l'exploit sarà effettivamente utilizzabile in maniera decente lo aggiungerò come update su exploitDB perché tanto il bug è noto è patchato la disclosure c'è stata è solo un discorso di avere uno strumento che possa essere utilizzato non solo su target paleolitici come Windows XP e Windows 7 ma anche su sistemi effettivamente di produzione come Windows Server 2008 R2 che comunque ancora si trova all'interno delle infrastrutture dove è molto più probabile in un mondo reale trovare software di questo tipo io in teoria avrei concluso quindi spazio alle domande no allora lavorare l'exploit in realtà solo io è ancora in registrazione supporto morale allora gli altri stavano lavorando su altri target premesso che siamo siamo un team molto piccolo e quindi bisogna splittare l'effort siamo in tre a lavorare queste tipologie di ingaggi quindi mentre io mi dedicavo a questa parte gli altri cercavano magari altri altri vie per entrare nel perimetro ne è valsa la pena perché comunque poi alla fine l'exploit si è rivelato utile sono cose su cui effettivamente mi devo documentare perché allora premessa non faccio moltissimo exploit writing su windows se devo essere sincero perché comunque la mia parte di exploiting binaria deriva più da ctf e quindi solitamente i binari che si vanno ad attaccare salvo qualche rara eccessione sono sono linux e quindi la metodologia è un pochino diversa anche proprio l'approccio quindi nel poco tempo che ho avuto di fare questa cosa sono dovuto partire quasi da zero nel senso che sapevo so come si roppa però alcuni aspetti tipo l'import address table hoping per me era abbastanza una novità che poi in realtà è più o meno la stessa cosa che si fa quando si vanno a alicare gli indirizzi della global offset table di un binario health sinceramente non sono così formato su questo aspetto per sapere se ci sono delle magie per fare questi tipi di calcoli in maniera dinamica direttamente su un binario blind in remoto sono è stato sicuramente ad approfondire questo aspetto mi sono anche dimenticato di ringraziare ovviamente oj reams non so se lo conoscete di nikfa the colonial è un carissimo amico dall'australia che collabora con rapid seven e sviluppa il progetto meterpreter è praticamente il principale sviluppatore di meterpreter e mi ha fornito un sacco di feedback e un sacco di supporto per quanto riguarda proprio la parte di binary exploitation su windows allora circa cento no circa centottanta byte di ropchain poi lo shellcode legganter era per forza incodato in alfanumerica perché c'era il problema dei betchar quindi erano circa 90 byte di shellcode di agganter e circa 700 il resto sempre encodato in alfanumerico si va bene a livello di encoding di solito andiamo di lazy way quindi ci sono già gli encoding di metasploit che più o meno fanno un buon lavoro se vai di alfanumerico sai quasi sempre di andare abbastanza colpo sicuro perché gli dai quali sono i betchar e lui automaticamente fa tutto e ti crea uno shellcode che funziona sono andato sono andato corto perché credevo di essere in ritardo io credo di non avere altro da dire se non ci sono altre domande vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti